Salve a tutti ragazzi, io sono DicoDabber21 e in questo nuovo video interpreto Tarzan dall'omonimo film Walt Disney del 1999. Di questo video a sconsa di qui io ci possiedo solamente una voce, se vi piace iscrivetevi e non perdetevi nelle ultime attività del doppiaggio. Un cimicciato ti fanno doppiaggio da DicoDabber21, Dami's the World, il mio motto, buona visione a tutti, spero che il video vi piaccia, si va a incominciare. Oh, un baggio di così non può andare, no? Ovviamente sì. Oh, no! Stai dietro, no, non ti avvicinare, ti prego, no! Cosa, cosa fai? Oh, no, 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 lascia l'elettrica, no, lasciami, lasciami, lasciami! Così impari, ora sta lontano da me, da bravo uomo selvaggio, accucciate. Vada, ti avverto, mio padre non ti troverà simpatico, no, sei, no, sei troppo vicino! No, come osi! Cosa? 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 Incantevole! Incantevole! Cosa? 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 Oh, capisco! Tanzan! Oh, capisco! Cosa? 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 CLEITON straordinario per favore puoi portarmi al mio campo? si CLEITON magnifico potremmo non possiamo camminare camminare troppo tenero Tarzan questo era un vero piaggio il Tarzan nell'omonimo film Disney del 1999 con la meravigliosa musica di Phil Collins bellissimo spero che il video vi sia piaciuto un cibo di ciao a tutti i fan di un piaggio da Diego Dabby il 21 Dabby is the world del mio motto spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo presto con tanti nuovi video ragazzi che momento